Le facoltà unirane riconcessi dai carri 523-524 del codice di diritto canonico, con il presente di credo, nomino il reverendo padre Gianni, nato a Saino, in costa d'amore, il 30 novembre 1967 e ordinato a prescrivere il 29 novembre 2003, parlo di Sant'Antonio di Paglia, il Paduleto e nell'Avvisto del Ritorio, a norma dei carri 519-528 e 523 del codice di diritto canonico. Concedo tutte le facoltà necessarie per l'annuncio della parola di Dio, per l'accentazione dei sacramenti e per lo svolgimento delle altre attività parlo a chiara. A norma dei carri 527, la possibilità di esercitare la parrocchia di Sant'Antonio, alla materna intercessione di Maria Santissima delle Grazie, nostra Celestria e Patrona, e desiderato il Padre di San Francesco, ha ospito il mio lavoro per tutta la comunità parrocchiale, con i belli al Signore e di cuore e di te, nato per un giorno presso la presidenza Arcilesco Vile, il giorno 7 agosto, anno domi 2020, Arcilesco Vile, la comunità di Guadalaflex. Grazie. 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 Grazie a tutti.